Tante difficoltà per il mercato immobiliare. Parliamo di un settore in continua evoluzione che però negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con rincari importanti ed ereteri che hanno condizionato l'attività lavorativa quotidiana. Da gennaio ad oggi chiaramente c'è una flessione anche importante perché è oggettivo. Bisogna vedere alla fine dell'anno perché il nostro lavoro si sa, un mese lavori molto, un mese lavori poco, poi arrivano le feste, per esempio adesso sta arrivando Pasqua, chiaramente il lavoro cala. Diciamo che seguiamo un andamento scolastico, quindi quando le scuole sono ferme ci si ferma anche noi, questo è un po' l'aria che tira. Però ecco, è ancora presto per dire che il mercato vada male. Sicuramente l'anno scorso è stato un anno eccezionale, sicuramente. Tra i diversi problemi che riguardano il mercato immobiliare, oggi in prima fila troviamo la carenza degli affitti, una problematica reale causata da diversi fattori che ha colpito le grandi città come Milano, Roma e Bologna, ma anche Pesaro. Quanto tempo dura questa problematica e quali sono le cause? Dunque, quali sono le cause? Penso che possano essere un po' tutte le notizie che ci circondano, quindi il discorso della guerra sicuramente, la gente ha paura, sicuramente molti proprietari non vogliono affittare perché chiaramente hanno paura di mettere dentro anche persone che magari non sono di qualità. Ovviamente cerchiamo sempre di fare una selezione molto importante per cercare di dare qualità ai clienti, però di pochissime case che abbiamo, perché questa è la verità, abbiamo tantissime richieste. Le case sono poche perché chi le ha non le sta affittando e tentano comunque di fare degli affitti temporanei purtroppo e questa è un'altra problematica che è uscita fuori recentemente, chiaramente sono più liberi i proprietari di affittare in questa modalità. E' anche vero che molti non li affittano semplicemente perché stanno a guardare, stanno alla finestra e vogliono guardare quello che succederà tra il Covid, la guerra, l'inflazione, le spese che stanno alzando in maniera esponenziale, i mutui che anche questa mattina stessa sono alzati di un altro 0,25. Tutti hanno lo stesso problema, quindi appartamenti ce ne sono pochi, c'è tantissima richiesta ma veramente pochi immobili. Quei pochi immobili che escono fuori due giorni vengono affittati. Quale potrebbe essere la soluzione? La soluzione è cercare di tranquillizzare la gente, sicuramente fare terrorismo mediatico non è il massimo, nel senso che a volte magari escono delle notizie che sono catastrofiche, in realtà se poi si va a vedere specialmente nella città di Pesaro, in realtà gli appartamenti ci sono, semplicemente la gente non ha voglia di darli. Quindi fondamentalmente tranquillizzare un po' la gente un po' di più, è chiaro che l'inflazione non aiuta, è chiaro che l'aumento dei prezzi non aiuta, però cercare di tranquillizzare le persone non facendo di continuo, non dicendo le cose vanno male, peggioreranno, peggioreranno, sarebbe positivo.